Non ci pensare alle assicurazioni hanno detto, ma io così mi ero stufata del colore e quindi... Te lo chiedo un'altra volta Richard, per favore togliti gli occhiali da sole. Molto bene, allora perché non ci parli della scuola? Diteci della scuola. Sigaretta... Ah no, non fumare, Richard! Richard, no, no, non si può fumare qui Richard, non credo, ma... Il mio nome non è Richard. E allora qual è? Dick. Com'è? Dick. Mi hai sentito? Dick. No! Tu ti chiami Richard? No, Dick. Bene, allora Dick. Come va alla scuola? Fa schifo al cazzo! Proprio così. E che materie stai seguendo, Dick? Seguo scopata di gruppo, teoria e tecnica del fottersi e laboratorio di sesso orale. Bene, ti piacciono o no, Dick? Oh sì! Ti sta piacendo? Ma che ti sta succedendo? Che cosa vuoi dire con che mi sta succedendo? Tu che ne pensi? Guarda come sei ridotta, ma cosa fate in quella scuola? Magari è forse il caso che Paul e io andiamo di sopra, così voi potete... No, 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 no. Se c'è qualcuno che deve alzarsi da questo tavolo è Richard. Mi chiamo Dick! Per favore, adesso va a tenere, Richard. Perché? Perché? Ti ho detto di andare via da questo tavolo. Adesso? No, 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 no. Non vado via da questo tavolo, no! A tenere, Richard! Beh, vaffanculo! E vaffanculo a te! E vaffanculo a te, bellezza! E tanti vaffanculo a tutti voi! Grazie, grazie! Me ha nevato. Buon appetito! Buon appetito!